Nome Paolo Davide Professione Mediatore creditizio Mediatore creditizio Parlami del tuo lavoro, cosa fai esattamente? Beh, se ti serve un finanziamento vedo di fartelo avere senza troppi problemi. Offro un servizio di consulenza che ha bisogno di un finanziamento e lo aiuto a trovare le soluzioni più adatte alle sue esigenze, tra quelle offerte dalle banche. Quindi basta essere un esperto di servizi finanziari? Non è così facile. Occorre avere precisi requisiti, superare delle prove e lavorare per una società iscritta negli elenchi tenuti dall'OAM, che è l'organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Altrimenti non sei un mediatore. Ma quale elenco? Per fare questo mestiere sì, bisogna aver imparato qualche cosa, ma soprattutto bisogna avere le conoscenze giuste e saperci fare. Ma sei tu che concedi il finanziamento? Io non posso concedere finanziamenti. Solo la banca scelta dal cliente può farlo. Io sono un mediatore a 360 gradi, seguo tutti gli aspetti. Tu non ti devi preoccupare. Penso a tutto io. Chi paga la tua parcella? Il cliente, secondo quanto stabilito dal contratto di mediazione. Se poi la mia società ha una convenzione con la banca scelta dal cliente, una parte la paga anche lei. Eh, ma quante domande! Se uno viene da me, in qualche modo un accordo lo troviamo. Ultima domanda. E se dopo la firma del contratto il cliente cambia idea? Nessun problema. I clienti hanno sempre diritto a recedere nei tempi previsti dal contratto e senza alcun tipo di penale. Impossibile. Con me nessuno cambia idea. Tanto poi era già firmato. E tu, tra i due, di chi ti fidi? Grazie. 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 Grazie.